Musica Quasi 1600 euro per arrivare in Italia dall'Eritrea e l'Odissea dei 718 immigrati sbarcati a Brindisi arrivati questa mattina nel porto a bordo della fregata Aliseo. Tra questi sono numerosi quelli fuggiti dalla guerra. Le stime non sono ancora definitive e la maggior parte di loro proviene dai paesi dell'Africa sub-sahariana. Circa 50 dicono di essere palestinesi, 250 dicono di provenire dalla Siria e saranno affidati quasi tutti a vari centri del Brindisino. 77 adulti verranno trasferiti nell'ex scuola elementare di Via Sele a Rione Perrino. Le famiglie con minorenni al seguito verranno accolte nell'ex struttura alberghiera Green Garden situata sulla strada che collega San Vitone e Normani a Carovigno. Una cospicua parte di migranti raggiungerà il cara di Restinco. Altri sono stati condotti in un fabbricato nella zona portuale. Circa 200 adulti saranno trasportati a Bari, Roma, Campobasso, Foggia e Firenze. Le operazioni di sbarco e di accoglienza sono state coordinate dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi, coordinate da Stefania Occhioni. Presenti sulla banchina di Santa Pollinare, anche centinaia di unità fra poliziotti, carabinieri, volontari della protezione civile e provinciale, e due squadre di vigili del fuoco. A prestare i soccorsi ci sono soprattutto i volontari della Croce Rossa da tutta la provincia, come gli uomini e le donne della CRI della sezione di Fasano. Le richieste di soccorso sono state lanciate dalle acque a largo della Libia. I migranti viaggiavano a bordo di barconi finiti in avaria. Dal Ministero degli Interni, di concerto con la Marina Militare, è stato avviato l'ordine di fare rotta verso Brindisi. I naufraghi erano tutti in buone condizioni di salute, ad eccezione di cinque sospetti casi di scabbia al vaglio delle autorità sanitarie italiane. Man mano che scendevano dalla nave, i profughi venivano accompagnati verso sei tende, con attrezzature sanitarie allestite da personale della protezione civile provinciale, con presidi del 118 e Croce Rossa. Tra le testimonianze raccolte è Merso, che per raggiungere l'Italia hanno pagato 1.600 euro. In queste ore sono in corso le operazioni di identificazione, le forze dell'ordine in particolare, dovranno accertare se fra i 718 ci sono persone che in passato erano state raggiunte da un provvedimento di espulsione dall'Italia. Due settimane fa era stato arrestato per furto di auto a Martina Franca. Ieri a Potignano è stato ammanettato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta del 24enne fasanese Leandro Tauro. Sono stati i carabinieri della locale stazione a bloccarlo e ad arrestarlo. Il giovane che di professione fa il barista è stato intercettato in una via del centro di Potignano a bordo di una Smart, insieme ad un amico. I militari dell'arma, durante alcuni controlli, gli hanno imposto l'alt, ma il 24enne fasanese, anziché fermarsi, è fuggito via. È finito però in un labirinto di stradine, è messo alle strette e ha piazzato la macchina, di traverso facendo fuggire il passeggero. Leandro Tauro ha provato a fuggire, non riuscendoci. Nello scontro fisico con i carabinieri ha procurato delle lievi ferite ad uno dei militari. Sottoposto a controlli e perquisizione è stato trovato a bordo della sua auto un taglierino posto sotto sequestro. Il 24enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, è stato sottoposto ai domiciliari, mentre sono in corso indagini finalizzate all'identificazione del complice. Si cerca un uomo di 75 anni, originario di Brindisi, allontanatosi da una struttura ricettiva monopolitana, giovedì mattina con la sua auto, una Toyota Corolla. Giuseppe Cavallo, ospite di parenti in una struttura sulla monopoli Alberobello, al momento della scomparsa indossava jeans, camicia, maniche corte, a quadrettini grigi e blu, mocassini neri, occhiali da sole. Si è allontanato senza più fare ritorno nella struttura. È alto 1,87 m, corporatura robusta, occhi verdi. Ha documenti e pochi soldi, non ha con sé cellulare, non soffre di nessuna patologia particolare, non assume farmaci. Per le segnalazioni, contattare i carabinieri della compagnia di Monopoli allo 080 4271500. Il 5 agosto scorso è stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Francavilla Fontana, il primo documento politico della nuova amministrazione cittadina. Il movimento politico-culturale IDEA non si esime dall'esprimere le proprie valutazioni, ha diffuso una nota in cui scrive, pur concedendo alla nuova maggioranza l'attenuante di aver ereditato scelte maturate in un lungo periodo di commissariamento cittadino, non si può fare a meno di sottolineare l'assenza totale di proposte concrete che un bilancio politico di previsione deve contenere. Questo documento costituisce il cuore delle scelte di un'amministrazione, la sintesi dell'azione programmatica che le forze politiche hanno esposto all'elettorato. Ma la lettura del bilancio previsionale predisposto dall'Aggiunta Bruno spiega il movimento politico-culturale IDEA, suscita una grande delusione perché grandi sono state le aspettative alimentate prima del voto. I proclami di cambiamento di metodo e di contenuti che hanno contraddistinto la campagna elettorale si sono arenati a livello di mere enunciazioni teoriche. Prendiamo atto di come questo bilancio di previsione non abbia una reale prospettiva di medio-lungo termine e non affronti le questioni legate allo sviluppo della città, in particolare del centro storico e della zona industriale. E la nota chiude, oggi la forza politica di maggioranza si è presentata con troppo poco per chi si era reso conto che non si può fermare il vento con le mani. Torna anche quest'anno il quarto festival nazionale dei Sapori del Folclore. Quest'anno l'assessorato alla cultura del comune di Ostuni, particolarmente sensibile a quelle iniziative tese a riportare alla luce momenti significativi della storia della nostra Puglia, ha inteso celebrare l'iniziativa in oggetto nell'ambito del Gran Festival Nazionale del Folclore che si svolgerà sabato 9 agosto a cura del gruppo folk Città di Ostuni a partire dalle venti con un corteo di gruppi folk provenienti da diverse regioni italiane e carri d'epoca che attraverseranno la città per concludersi fino a tarda sera con una degustazione di prodotti tipici nella villa comunale. I canti, i costumi, il rumore dei carri che si trascinano lungo le vie della città di Ostuni, gli antichi sapori uniti ai profumi di un tempo, non potranno che condurre i forestieri che affollano la città e gli stessi ostunesi e, tra loro, molti emigrati in ferie verso nostalgici ricordi di tanti pugliesi che, allontanandosi dalla loro terra di origine con incommensurabili sacrifici, hanno però lasciato tracce indelebili della loro identità culturale. Tracciamo un bilancio con il presidente dell'associazione. La passata edizione, sappiamo tutti, è stata una cosa bellissima, eccezionale, apprezzata non solo dalla città di Ostuni, ma dai tanti turisti che ci vengono a trovare da fuori regione. Quindi quest'anno io voglio incominciare questa intervista proprio dai ringraziamenti. Sempre il primo va fatto a tutti i ragazzi, ai collaboratori di questa bellissima associazione che mettono tanto impegno per farlo diventare ancora una volta un evento degno da essere da calendario ostunese. Voglio ringraziare l'assessore Pierangelo Buongiorno, assessore alla cultura, per aver inserito nel nostro quarto festival nazionale del folklore la giornata del lavoratore pugliese nel mondo. Poi dobbiamo ringraziare fortemente l'amministrazione comunale perché in collaborazione con loro e in collaborazione con alcune aziende locali affezionati all'evento, siamo riusciti quest'anno addirittura a portare a Ostuni un supporto di un gruppo in più. Quindi saremo cinque gruppi folk, in più saremo un gruppo dei sbandieratori e cinque attacchi, cinque traini, dove noi sfileremo per le vie cittadine portando colori e suoni. Insomma, dobbiamo farla diventare ancora una volta quest'anno, la quarta edizione, una giornata magica, magica all'insegna delle tradizioni popolari non solamente ostunesi ma bensì nazionali. Verranno a trovarci gruppi, ci stanno elogiando con la loro presenza, dalla Campania verrà la Provenzana, poi verrà un gruppo che ci viene a trovare dal Molise chiamato Lu Passariello e poi ci sarà il gruppo folk Città di Castrovillari che ci viene a trovare dalla provincia di Cosenza, Calabria. In più avremo il nostro amico gruppo Città di Palagianello, i nostri amici sbandieratori e musici I Carvinati di Carovigno e il gruppo organizzatore che siamo noi, il gruppo folk Città di Ostuni. Insieme faremo diventare un gran festival nazionale del folklore con la speranza, dico sempre, e voglio mettere l'impegno insieme ai ragazzi che l'anno prossimo, ancora una volta, insieme all'amministrazione comunale e a questi commercianti affezionati all'evento, lo dico e lo voglio far diventare un evento internazionale del folklore. Associato alla gastronomia, sappiamo tutti che sposano bene sia il folklore che la gastronomia dove potremo gustare prodotti tipici ostunesi. Vi aspettiamo tutti alle ore 20 in Piazzale Falcone con la partenza del corteo e alle 21 tutti in Villa Comunale per assistere a questo bellissimo quarto festival nazionale del folklore. Ieri sera, in una sala dell'Episcopio Stunese, in Piazza Cattedrale, il dottore Enrico Ciola ha raccontato la storia delle bilance e delle misure utilizzata sin dal 7000 a.C. Un pubblico numerosissimo, attratto dall'originalità del tema e per alcuni versi anche inedito, ha seguito le numerose diapositive che si alternavano ai fatti storici con le immagini, delle bilance e degli strumenti di misura legati ai vari passaggi storici di tutti i paesi europei, orientali, cinesi, africani e americani in poche parole. Questi oggetti sono stati strumenti di attività commerciale e anche di sviluppo. Dopo la dimostrazione grafica, tutti sono passati in un'altra sala, sempre in Piazzetta Cattedrale, a vedere e toccare con mano questi oggetti. Una vera esposizione storica, della cui esistenza molti o tutti non avevano la minima idea. Anche la seconda serie della produzione televisiva Braccialetti Rossi è registrata a Fasano. Sono cominciate lunedì le riprese e tantissimi fan erano assiepati nei pressi della scuola elementare Collodi per cercare di scattare una foto o strappare un autografo ai protagonisti della fiction che andrà in onda su Rai 1. Per l'assessore al turismo del comune di Fasano, Laura De Mola, Braccialetti Rossi a Fasano è promozione del territorio a prescindere dalla popolarità che già abbiamo a livello nazionale, ha detto. È notevole anche l'indotto economico che ne deriva dalla presenza di questi attori, spiega tutto ciò fa aumentare i guadagni ai negozianti, agli artigiani, ai ristoratori e agli albergatori. Un ritorno economico a 360 gradi. Inoltre l'assessore al turismo De Mola prosegue. Siamo orgogliosi che sia stata scelta ancora una volta la nostra città per le riprese di questa fiction di successo. Vuol dire che la gente qui è stata bene. Chi ha partecipato, afferma Laura De Mola, ha anche deciso di investire nel nostro territorio. Siamo contenti che Fasano sia set cinematografico e televisivo, come anche nel caso di alcune scene registrate per il commissario Rex. Per la chiusura d'estate, comunque, stiamo organizzando un evento nel territorio fasanese, al quale parteciperà nuovamente tutto il casting di Braccialetti Rossi. La storica esposizione della Selva di Fasano è quasi pronta per svelarsi al pubblico. Sabato 9 agosto alle 19 nel Palazzo dei Congressi della Casina Municipale si terrà la cerimonia inaugurale della mostra dell'artigianato fasanese organizzata dal Comune di Fasano. La 44esima edizione sarà aperta dal giornalista Martino Grassi. Alla serata interverranno numerose autorità civili e militari dei comuni limitrofi, ma ci saranno anche l'assessore regionale Loredana Capone, i rappresentanti fasanesi nelle varie istituzioni, ovvero il senatore Nicola Latorre, i consiglieri regionali Antonio Scianaro e Fabiana Amati, il vice sindaco di Fasano Gianleo Moncalvo e l'assessore comunale alle attività produttive Renzo De Leonardis. L'Expo quest'anno avrà una particolare cerimonia di apertura con diverse sorprese che verranno rivelate solo con l'inaugurazione, grazie alla direzione artistica della campionaria affidata agli architetti Gianni Trisciuzzi e Veronica Giannandria dello studio VG Architetti. La mostra dell'artigianato fasanese è gemellata quest'anno con l'artigianato in fiera di Rò, la più grossa organizzazione fieristica di settore in Italia che raccoglie le migliori produzioni artigiane provenienti da 113 paesi del mondo e con Exhibition Elite, una manifestazione di arte e artigianato di Roma. La campionaria fasanese rimarrà aperta al pubblico fino al 24 agosto prossimo, visitabile dalle 18 alle 24 e nei festivi anche al mattino dalle ore 10 e 30 alle 13. In esposizione manufatti in vetro, legno, rame, stoffa, marmo, pietre e materiali da riciclo, oltre che quadri, saranno 42 gli espositori dislocati in 37 stand. Questa edizione della mostra vedrà al suo interno anche la tenuta di sei incontri pubblici di approfondimento su tematiche economiche legate al settore ma anche sul locale e territorio e sulla storica mostra dell'artigianato fasanese. In questo numero del Salus Tg, il Ministro della Salute rassicura gli italiani in partenza per le vacanze, nessuna emergenza sanitaria. Cassi, bene l'approvazione degli standard ospedalieri, ora va rivisto il ruolo del medico. Uomo ricomincia a suonare il piano dopo il trapianto di mani. L'estate spero che sia un'estate di riposo per gli italiani, insomma che hanno avuto anche un anno complicato e dal punto di vista sanitario possiamo stare sicuri che non ci sono assolutamente rischi o misure di particolare allarme a livello nazionale, né su patologie gravi né su patologie più banali. È il messaggio che il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin lancia in un'intervista al canale Sky 440 Doctors Life, edito dalla DN Cronos Salute e dedicato ai medici e ai farmacisti. L'emergenza ebola in Africa e gli sbarchi dei migranti sulle coste italiane mettono a dura prova il sistema di sorveglianza sanitario del paese. L'Italia ha attivato ormai da mesi una serie di meccanismi di controllo delle persone che hanno accesso nel paese. Bene l'approvazione degli standard ospedalieri, adesso, correntemente, aggiorniamo il ruolo del medico. E in sintesi il commento di Riccardo Cassi, presidente della CIMO, all'indomani del Via Libera della Conferenza Stato-Regioni a regolamento sull'assistenza ospedaliera. Per Cassi, però, se si valutano gli esiti e la qualità delle cure per giudicare le strutture, si devono coerentemente premiare le competenze e il merito con una nuova carriera dei professionisti. A 65 anni ha ricominciato a suonare il piano, a disegnare e a nuotare. Progressi spettacolari, secondo i medici, che hanno trapiantato le due mani all'uomo. Richard Mangino, nel 2011, a Boston. Dopo che un'infezione gli aveva fatto perdere le gambe e le mani. Fa ancora molti progressi, spiegano i medici di Boston, a livello di miglioramenti funzionali e sensoriali. Dopo il trapianto abbiamo fatto alcune piccole operazioni per permettergli di pizzicare un po' più forte con una mano e stringere un po' di più con l'altra.